E tu, invece? Tori ti darà del filo da torcere. Ma tu, per cosa combatti? Per chiuderla. Tori mi ha battuto all'Hall Valley, ma... era una farsa. Per entrambe. Voglio dimostrare quanto valgo. A me stessa. Per chiudere un cerchio. In tal caso, il risultato non importa. Se vuoi mettere un punto a questa storia, devi dare il massimo. Dacci dentro. Vai.